Ciao a tutti, siamo proprio qui nel tunnel dello Stadio Olimpico dove si sta giocando Roma-Torino. Siamo qui perché tra pochissimi istanti si terrà la sfida finale degli Illuminati Crew, il Crossbar Challenge allo Stadio Olimpico. I concorrenti sono Dexter, Mike Shosha, Brazo Crew e Sodin. Allora ecco Dexter, sei pronto a giocare? Sì, sono pronto, prontissimo. Noi siamo un po' abituati ai campetti e oggi siamo allo Stadio Olimpico, non so se mi spiego. Come ci si sente? Tu sembri nervoso? Sei teso? Abbastanza, comunque 30.000 persone fuori che guardano quattro scemi che copriscono la parola. Secondo voi il più bravo chi sarà? O chi dice? Secondo me è un buon Mike Shosha. Perché Luis dice che è il pro. Sì, esatto, è il pro di Senna, dai. Ci sono solamente 30.000 persone in più che guardano quello che facciamo solitamente al campetto. Quattro persone stanno al campetto? Tre. Noi, noi, noi. E il mio cane. Mike Shosha, adesso prendo la traversa. Speriamo. Sono il vostro caro Dexter. I miei compagni non hanno preso la traversa. Cercherò di fare meno scritto di loro. Cercherò di essere essenzia. Cercherò di essere scoperto sarco. Perchè, adesso prepariamo il... Ho preso la traversa e andiamo! Eccolo Dexter, com'è andata? Benissimo! E siamo qui con il vincitore del nostro Crossfire Challenge, allora come ci si sente? Mamma mia, è il sogno nel sogno, un'emozione senza fine praticamente. Vincitore sia fuori che dentro il campo evidentemente. Mamma mia, mamma mia. Ma che buono! Ha tirato la speculata! 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 Ragazzi fate la pace, alla fine siete tutti compagni. Hai salvato la Crossfire Challenge! E finisce qui per oggi, ma soprattutto... Sei Romanista! Sei Romanista!